Una coltellata al marito, nuovo punto oncologico da Nagni, cameriere accusato di violenza sessuale. Ben trovati al TG, una donna è stata denunciata per lesioni dopo aver ferito il marito, un operaio di Ferentino dell'età di 30 anni, con un coltello al culmine di una lite tra le mura domestiche. Ai carabinieri ha detto di non ricordare nulla, il marito è ricoverato all'ospedale San Benedetto di Alatri, ma non in gravi condizioni. Inaugurato all'ex ospedale di Nagni il Paco punto di accesso e continuità in oncologia per le terapie ai pazienti del nord della provincia di Frosinone. La struttura è dotata di tre ambulatori, all'inaugurazione erano presenti i presidenti di regione e consiglio provinciale Francesco Rocca e Gianluca Quadrini, la presidente della commissione consigliare regionale alla sanità Alessia Savo e il primo cittadino Daniele Natalia. Scarcerato un cameriere di Aquino di 48 anni che era stato arrestato insieme a un egiziano per violenza sessuale e danni di una turista svizzera cattolica. Secondo le accuse i due avrebbero trovato la donna a terra per strada e stato confusionale per l'assunzione di droga e alcol e ne avrebbero abusato dopo averla condotta in una camera di albergo. È stata disposta l'autopsia sul corpo del pizzaiolo Giancarlo Di Raimo, 59 anni, morto dopo essere caduto dalle scale mentre rientrava a casa a Corino Ausonio nel cuore della notte ed aver battuto violentemente la testa. Il magistrato intende capire se il 59enne ha avuto o meno un malore prima della caduta ed escludere l'eventuale interferenza di altre persone. Indagini sulle bombe scoppiate a Cassino nel mese di maggio, al davanzale della finestra di un'abitazione a piano terra e davanti a una pizzeria nel quartiere Colosseo, nonché sotto un'auto al quartiere San Bartolomeo. La polizia arresta due giovani, uno di Ponte Corvo e l'altro del Cassinate, diverse persone denunciate. Cinque case popolari occupate abusivamente a Frosinone in via Molavecchia, via Bellini e via L'Espagna sono state sgomberate dalla polizia che ha provveduto a far murare i portoni d'ingresso e sono state restituite all'Ater. In totale sono 21 alloggi recuperati nel corso del 2024, su un totale di circa 300 occupati senza alcun titolo. Ancora un incidente stradale autocinghiale, questa volta a Ceccano in via San Francesco. L'animale è morto sul colpo, semidistrutta la parte anteriore del veicolo che è stato portato via con un carroattrezzi. Tanta paura, ma nessuna ferita grave per l'automobilista. I carabinieri di Cassino eseguono un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un ladro seriale dell'età di 33 anni, immortalato dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza durante numerosi furti in diverse attività commerciali. A risentirci alla prossima edizione.